Tre giorni per imparare ad amare la dieta mediterranea, tre giorni per confrontarsi sul futuro del mezzogiorno partendo dalle eccellenze del sud. Prenderà il via a Padula dal 26 al 28 febbraio l'iniziativa Emozioni Unesco, mostra culturale sulla dieta mediterranea e sarà la splendida Certosa di San Lorenzo, il complesso monastico più grande d'Europa, ad ospitare per tre giorni un'iniziativa che vuole rilanciare il buon vivere ridando un ruolo alle eccellenze enogastronomiche e culturali del mezzogiorno. Con l'ausilio di nutrizionisti e docenti del mondo accademico ed in presenza di dirigenti scolastici dell'intera regione Campania saranno sviluppate le connessioni tra alimentazione, stili di vita, longevità e patologie mediche con precise indicazioni di principi attivi e dei benefici di olio, frutta, verdura, legumi, vino e formaggi prodotti dell'eccellenza del territorio. Ma ascoltiamo l'assessore regionale al turismo e beni culturali Pasquale Sommese e il presidente dell'osservatorio della dieta mediterranea Vito Amendolara. All'interno di un progetto Emozioni Unesco è che in perfetta linea con Expo 2015 che vede questo binomio tra i nostri prodotti nelle varie declinazioni scientifiche ma anche l'alimentazione, il cibo centrale ma all'interno di una cornice suggestiva quale la Certosa di Padula e i tanti monumenti della nostra regione ed è l'azione prioritaria che nelle nostre proposte all'Expo abbiamo posto. Come coniucare questo grande binomio tra i nostri prodotti, la dieta mediterranea e le nostre bellezze. Sono tre giorni di riflessione, non soltanto la mostra in sé ma l'abbiamo messa in moto proprio nel Cilento, nella porta del Cilento che è Padula e vogliamo cominciare a parlare intanto con i giovani. La prima giornata è dedicata proprio ad un nuovo approccio al cibo che i nostri scienziati vedranno di trasmettere ai nostri ragazzi. Il secondo giorno abbiamo parlato con l'unica lente di informazione a livello europeo per cercare di creare una cornice intorno a questa egida dieta mediterranea della quale spesso non si conosce il significato ma spesso viene banalizzata e quindi qui cercare di creare delle prassi attraverso le quali chi vuole utilizzare questa, diciamo così, egida lo può fare rispettando determinati parametri. E poi abbiamo voluto costruire con il sistema imprenditoriale agricolo di questa nostra regione micro imprese che fanno i prodotti di eccellenza di cui tanto ci vantiamo di aiutarle perché non possono essere sul mercato così come sono congegnate e quindi la ricerca e l'innovazione a disposizione affinché aiuti queste imprese a stare sul mercato e a continuare a darci questi prodotti di eccellenza.